salve a tutti ragazzi io sono il godelike e oggi siamo finalmente sul primo episodio sul gioco world war 2 strategy e tactics sandbox è un gioco che inizierò oggi con voi che spero poi diventerà una serie dove portare ogni giorno un episodio nuovo detto questo iniziamo subito con il video nuova partita giochiamo con l'italia questo gioco quando iniziamo la partita saremo nel 1939 è un periodo di varie guerre e noi dovremo cercare di conquistare più territori utilizzando a nostro vantaggio i vari soldati le truppe e i carri armati che disponiamo sul campo di battaglia detto questo iniziamo a giocare aspettiamo il caricamento clicchiamo per continuare a iniziare la partita per propria siamo già sul campo di battaglia le nostre truppe sono state disposte in tre in tre città precise dell'italia credo che sia nel 1939 o nel 1940 comunque abbiamo un soldato da solo un soldato che si trova alla spezia un carri armato che si trova a milano e due soldati si trovano a torino iniziamo subito ad attaccare il nostro primo avversario della squadriglia francese vediamo abbiamo appena conquistato conquistato burn abbiamo appena trasferito il nostro carri armato alla spezia perché credo che secondo me un halto bed L'attacco ci vorrà Allora, no, intanto Andiamo Aspettiamo che Abbiamo appena avuto il primo messaggio Della nostra squadra Che ci hanno detto che abbiamo appena conquistato La città di Bern Ma, come al solito, dobbiamo Per forza Adesso Non possiamo solo Trasferire Una parte Le nostre Truppe a Ferrara Non possiamo più intervenire Perché Abbiamo finito il tuo turno Quindi adesso dovremmo aspettare Il turno Successivo Per poter Contraattaccare di nuovo Con le nostre truppe Di fatti Ho sbagliato l'anno E mi scuso Per questa cosa Quindi siamo al 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 Primo Marzo 1938 Infatti Infatti Vediamo che Sul campo di battaglia Come Truppe avversarie Abbiamo Gli olandesi Gli svedesi I finlandesi I francesi Gli inglesi Gli americani Gli svizzeri Gli svizzeri I belgi Gli ulandesi I I I I rumenesi Quindi di Romania I 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 Rote cev her Sweet Rotte navi Malmo Born Holm Malmo Danzig Bloccate Per un Primo Un Primo Turn Allora Vediamo Dove Dove Siamo Di Preciso Siamo Qua è stato per 6 quindi andiamo di attaccare di riprenderci Torino olè a posto e quindi adesso andiamo andiamo prenderci Lion che si trova in Francia olè noi intanto andiamo a andiamo a conquistare Bern che è la nostra prima quindi vediamo mi hanno detto che questo gioco è veramente molto 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 difficile e e quindi e quindi possiamo trasferire la nostra truppa a Venezia perchè non non abbiamo anche qua per il momento non possiamo fare altrettanto ci sono appena arrivata una comunicazione che si è stato effettuato un attacco aereo sopra la città di Bern qui abbiamo fatto un altro un altro attacco sempre su Bern la provincia strategica di Lion è stata conquistata dai nostri la provincia di Torino è stata conquistata e questo per quanto riguardava il primo turno il turno 2 con le creazioni di Nati le sue forze sono arrivate alla provincia di Aghedabia i suoi forze sono arrivati alla provincia di Milano la provincia di Verne è stata persa la provincia di Torino è stata persa la provincia di Catania è stata persa la provincia di Forte Capuz è stata persa la provincia di Sardegna è stata bombardata via mare vediamo di aprire i messaggi che abbiamo ricevuto così possiamo saltare il turno vediamo ok ora è questo ok ho detto tutto quindi il primo episodio questo gioco fantastico si può concludere qua se vi è piaciuto lasciate un commento o un mi piace e iscrivete al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al al prossimo al prossimo video bello bello da voi è è ok ok ciao ciao ciao